E' durata molto meno del previsto la tornata di sedute di febbraio del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano dedicata a nomine e designazioni. Convocato per tre giornate, il plenum ha assolto in una sola mattinata quasi tutti i punti all'ordine del giorno. Nessun ostacolo alla maggioranza nel corso delle diverse votazioni. L'Aula ha eletto con 18 voti Maynard Donvalder e Angelo Gennacaro nelle commissioni paritetiche dei 6 e dei 12 e nominato i componenti di una serie di commissioni tra cui quella paritetica per la definizione definitiva dei capitoli di bilancio e quella interregionale. Senza intoppi anche l'elezione delle rappresentanti dell'opposizione nella commissione provinciale per le pari opportunità. Su richiesta della maggioranza sono state rinviate la nomina delle commissioni legislativo e poiché ancora manca l'accordo con l'opposizione e la designazione dei componenti della commissione 137 che richiede ulteriori trattative.